Benvenuti, benvenuti in una nuova puntata di MTE, sempre sul Giappone, questa volta ancora con il solito ospite che mi onora della sua presenza, anche se non vuole che lo dica. Parleremo con Marco Casolino del Giappone, ma soprattutto delle ferie in Giappone. Prima però, sigla! Oh, benvenuto Marco, benvenuto. Ciao, ciao. Eccomi qui nella mia augusta presenza, nella nostra augustissima presenza. Ecco, come sempre in una puntata condivisa, quindi come parleremo delle tue esperienze in Giappone, sempre riguardo alle ferie, come vengono svolte queste ferie in Giappone, dai giapponesi e soprattutto anche dai tuoi. turisti italiani, se magari hai qualche posto da consigliare. Ma partiamo a come vivono le ferie i giapponesi. Vabbè, la battuta e la risposta è, per paraprasare Frankenstein Junior, ferie e quale ferie. Nel senso che, cioè, dunque i giapponesi credo che abbiano almeno per obbligo una ditta, ti devi dare due settimane di ferie, però il problema è che non se ne prendono. In generale non sta bene prendersi le ferie, sempre parliamo con l'accetta e vuoto per pieno, perché poi molte cose stanno cambiando, però in generale non sta bene che tu prendi due settimane di ferie secche, così continuate, lasci la ditta per due settimane, perché appunto vuol dire che allora se tu puoi mancare dalla ditta per due settimane non sei essenziale per la ditta stessa. E quindi non sta bene prendersi questi giorni di vacanza. Io so che adesso da Stato stanno cercando di introdurre le festività del lunedì. No, quello è tanto, sì, sì, esatto. Le festività del lunedì, e quindi essenzialmente per evitare che la gente impazzisca completamente, ci sono tutta una serie appunto di festività del lunedì, il giorno dello sport, il giorno degli anziani, il giorno dei ciliegi, il giorno del mare, eccetera, eccetera, che sono messe appunto strategicamente il lunedì in maniera che c'è dei weekend lunghi e la gente può andare in gira e magari ti puoi anche prendere un giorno il venerdì o il martedì. Però sono sempre cose estremamente limitate nel tempo. Sì, perché allora io quest'anno quando ero in Giappone mi ricordo che, anzi segnalo, metto il link lì sopra, quindi se volete ripercorrere le mie storie di inizio anno in Giappone, ho messo il link lì. Ma quando ero in Giappone c'è stata appunto la festa dell'imperatore che è caduta la domenica, mi sembra, e l'hanno spostata a lunedì. Quindi era festa sia domenica che lunedì. Vabbè, quella è anche da noi, spesso ci sono le festività soppresse o le spostano. E appunto in generale questo è per facilitare un minimo la... Anche perché sennò la gente... Il Giappone è molto turista, gode molto del turismo interno. Adesso poi in questi periodi... C'è solo quello. C'è solo quello, anzi lì hanno fatto tutta una campagna, go go Japan, fallimentarevi, che voleva incentivare il turismo interno, e quindi c'era una specie di voucher che ti davano, ma solo tramite la... Insomma, sono riusciti a farla molto peggio che da noi, perché poi infatti è stato un flop colossale, e anche perché poi le ditte fondamentalmente avevano confiato i prezzi a seguito di questa cosa qui, quindi insomma è stato un fallimento completo. Cioè alla fine sembra un po' tutto il mondo è paese, anche lì la situazione. Sì, cioè vabbè, è chiaro che poi uno si diverte di più a raccontare le cose che non funzionano, le cose negative, però è chiaro che in questo periodo un po' più complicato, anche loro non è che brillino molto... No, per l'altro adesso parliamo un attimo di attualità. Abe si è dimesso proprio ieri, quindi rispetto a quando stiamo registrando, non si dovrebbe dire però... Sì, diciamo, lui è stato, credo, il primo ministro che ha servito più a lungo in un governo senza interruzione, si è dimesso ieri per motivi di salute, probabilmente è anche vero, non è chiaro chi verrà, forse Asi, il vice primo ministro, che però a molti non piace, perché dicono che si ha meno sveglio di hub, se possibile, e anche lì poi in realtà in Giappone cambia... Oramai l'impostazione, quella famosa di hub, l'hubenomics, cambia poco poi chi c'è realmente alla guida, l'impostazione è quella e quindi poi non penso che cambierà più di tanto la... Comunque, ritornando al volo sulle ferie, anche i giapponesi fanno le ferie. Io mi ricordo che ci sono dei periodi classici dove però vanno tutti in ferie. Sì, no, lì devi stare proprio lontano da tutto e da tutti, cioè la Golden Week, c'è anche la Silver Week che è più scarsa, insomma è la Golden Week che è a maggio, che ci sono una serie di giorni tattici, anche lì messi tipo un mercoledì, un giovedì, eccetera, che sono di vacanza e quindi poi con un paio di giorni ti fai forse sette o anche dieci giorni di vacanza. Quindi tutti i giapponesi, lì veramente vanno tutti in fede, salvo casi iper eccezionali e quindi i prezzi ovviamente raddoppiano, triplicano, anche i turisti stranieri devono stare assolutamente alla larga da quella settimana, cioè se uno pianifica, ovviamente ci stai, va bene, ma insomma se devi pianificare un viaggio, basta anche guardare i prezzi delle compagnie aeree, cioè sta a un punto in cui c'è proprio un picco mostruoso che è intorno a quella... Sì, io ho visto che standoci nel 2018 ci stavamo avvicinando alla Golden Week e vedevamo i prezzi che lentamente salivano, oppure per fare le prenotazioni dei treni dovevi muoverti settimane, mesi prima, quindi iniziamo a diventare un po' brigoso anche girarlo da turista. Comunque, a parte questo, dove vanno a questo punto i giapponesi in ferie? Perché io ho visto, tra l'altro, scusa, sulla Rai adesso ci sono dei documentari bellissimi fatti dal JNTO, che è l'ufficio del turismo giapponese, appunto su dei posti molto particolari, non per occidentali, diciamo, non per stranieri, ma soprattutto per giapponesi. Ci sono questi bellissimi video che ti fanno vedere dei posti stranissimi, ok? Ma in quanto, no, Rai 5, Rai 4? Rai, sono su Rai Play, li trovo. Rai Play, vabbè, oramai vi sono streaming. No, credo che li trasmetta Rai 5, però sì, sono su Rai Play. Ora vai, appunto, non accendi proprio più neanche la televisione. No, non esiste più. Sarei curioso di sapere quanti giga fai al mese di trasferire il trap. Volevi sapere anch'io, però evitiamo. Comunque sì, diciamo, il Giappone è un paese bellissimo da visitare, da esplorare, pieno di anfratti, piccoli posti, veramente dei gioielli nascosti, per cui anche lì è molto alla scoperta e riscoperta per gli stessi giapponesi. Ricordiamoci che più o meno l'area è grossomodo quella italiana, leggermente di più e la popolazione è il doppio, però è una nazione, è un'isola molto più montagnosa, per cui in realtà sono molto più concentrati in zone strategiche, tipo appunto Tokyo, che con l'Interrand fa, credo, a seconda di come conti, 30 milioni di persone, e poi tutta la cinta a Osaka, a Nara, Kobe e così via, che anche lì è quasi senza una soluzione di continuità, con un'altissima popolazione. Quindi poi dopo di che ti sposti nelle montagne, di sposti nelle parti più recondite del Giappone, appunto scopi questi gioielli, queste meraviglie, sia della natura che storiche, perché poi non dimentichiamolo che il Giappone ha una storia, diciamo, non lunga come la nostra, ma in parte dal Settecento, comunque quella scrittura nasce dal Settecento dopo Cristo, quindi poi è stato sempre terreno di scontri, battaglie, eccetera, quindi anche lì è difficile non imbattersi in un punto che in qualche maniera ha visto eventi importantissimi. Infatti nell'ultimo viaggio del 2019 che ho fatto, sono andato al castello di Matsumoto, che è sotto Nagoya, è molto bello e ci sono pochissimi turisti stranieri, sinceramente lo posso consigliare, è un po' fuori mano dai giri normali, però se qualcuno ha già visto il Giappone principale, può, secondo me, pensare quella come una possibilità di visita. Eh, perché appunto il problema, scusa, è proprio quello che se uno viene in Giappone, va in Giappone, insomma, il tempo è limitato e uno deve almeno fare le cose canoniche, i limiti del mondo. Eh, ma infatti, guarda, adesso apro un'immagine su una cartina del Giappone per far vedere giusto due cose molto velocemente. Tanto per far capire, Tokyo, che è qui, è in realtà all'altezza di Malta, come altezza... Sì, sì, tipo Palermo, esatto. Sì, Saffaro è all'altezza di Firenze, quindi non è che sia proprio a nord come noi, però il clima non è male alla fine, quindi... Beh, non è male... Quindi state... Cioè, bisogna discutere di quando, come, perché, però è chiaro che non essendo protetti come noi dalle alti e non avendoci il mare nostrum come noi, ma l'orfinano pacifico che anche loro consideravano loro per un breve periodo, la Seconda Guerra Mondiale, ma non gli è andata bene, però sono molto più soggetti. Innanzitutto tutte le catastrofi naturali del dizionario, cioè praticamente non c'è una catastrofe naturale che si facciano mancare, ma appunto il clima è molto più caldo e umido. Appunto Tokyo, che, come dici tu, è all'altezza di Palermo, o Malta, insomma, più o meno, e quella latitudine lì è molto caldo e umido e lo stesso, ovviamente, più uno va a sud. Sapporo, che è la terra delle nevi, grandi nevicate, ghiacci e così via, appunto è una latitudine assolutamente mite per i nostri contesti, ma del resto, anche se ti sposti poco più a nord-ovest, in Russia, quelle zone della Siberia, lì c'è per l'Ivostocco e così via, sono temperature estremamente rigide perché non protette da barriere naturali. Quindi, sì, ecco, se uno volesse anche dare dei consigli sui periodi da evitare, ecco, assolutamente agosto suggerirei di evitare. Da giugno ad agosto evitare assolutamente, perché c'è la zona monsonica, c'è il momento monsonico, e vi è dicendo che da giugno a luglio, cioè luglio-agosto, secondo me, sono proprio quelli da evitare. Agosto a volte ti può andare bene, a volte no, diciamo, però è un caldo mestiale. Sì, sì, e poi l'umidità, appunto, insomma, quello è l'altro dei problemi. Però si fa tutto, non è che sia un problema, però a parità di tutto il resto, se uno può selezionare una data... Prima stavi giusto parlando dell'area più grande, praticamente l'area di Tokyo, che è tutta questa qui, è bella grande come area, perché comunque sono... Questa è veramente senza dissoluzione di continuità di case, cioè lo vedi per... Sì, 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 sì. E poi soprattutto si sposta verso ovest, lungo la Churosen, va verso il monte Takao, quindi è estremamente... Ecco, è esattamente lì. Quella è la parte... Perché appunto poi da un lato c'è il mare, dall'altro ci sono le montagne, quindi tende a essere estremamente popolato. Tra l'altro c'è anche da dire che l'area è molto grande, non so se lì si vede la scala. È lì in basso, 10 chilometri, praticamente da quello che vedete 2-3 centimetri sono 10 chilometri. Esatto, quindi sono varie decine di chilometri perché le case spesso sono case singole. Cioè i giapponesi prediligono costruire case singole, magari a più piani, 2-3 piani, ma monofamiliari, e quindi anche lì l'area è molto grande. Si alternano, è case palazzoni un po' tipo quelli che si vedono anche nei film, nei cartoni animati, e casette appunto monofamiliari, quindi ovviamente richiedono un'area molto più grande. Ecco, adesso sto facendo vedere l'altra area che hai già visto prima. Chioto-Koho-Saganara-Kobe, che è l'altro delirio. Questa area qui. Poi vabbè, qua c'è Chioto, che è già in un'area più tranquilla, perché comunque qua ci sono le montagne, c'è un bellissimo lago e via dicendo, e poi vabbè i Meiji un po' qua giù. Famoso solo per il castello alla fine, quindi non c'è nient'altro. Giusto per iniziare un attimo a far vedere, faccio vedere al volo due foto, due o tre foto che avevo scattato negli anni, questo è il Fushimi Inari a Chioto, giusto per far vedere un po' di paesaggi, questo è il Tempio d'Oro, sempre a Chioto, questa è Cucina Kaiseki, non prendetela, ne parleremo magari un'altra volta. Questo è un ryokan, che non esiste più, tra l'altro. Eh, perché tendono molto spesso anche lì c'è tutto un... cioè la casa si svaluta nel tempo, cioè se io ho un qualunque appartamento ed edificio e così via, ma soprattutto le case monofamiliari che sono nel 99% che è il Museo Bibli, nel 99% fatte in legno, essenzialmente dall'istante in cui è costruita quella si tende a svalutarsi, questo è per due motivi, sia perché essendo in legno non tende a durare di meno delle case appunto costruite in cemento come le nostre, sia un po' è una forzatura del mercato per far sì che il mercato immobiliare, o meglio il mercato della costruzione delle case sia sempre attivo. Quindi in pratica se uno compra la casa, quello che compra in quanto, a parte il posto dove vivi, ma con quanto valore è il terreno dove stai essenzialmente, il resto non è trascurabile. C'è anche da dire che per le case costruite negli ultimi, diciamo, nei 30 anni, 20 anni precedenti, essenzialmente fino al terremoto di Cobb del 95, i criteri antisismici erano molto più deboli e molto più laschi e quindi quelle case effettivamente buttarle giù e ricostruirle è legata anche a un motivo di costruirne una con criteri antisismici migliori. C'è anche da dire che comunque anche in Tokyo stessa, nelle zone non lontanissime e così via, ci sono molte case abbandonate. Se vai poi in campagna fuori è assolutamente comune, tanto più che a un certo punto c'era stata anche lì un'iniziativa del governo che dava le case, anche in Italia peraltro, a prezzi risori, se uno poi la risistemava, eccetera, eccetera. Ci sono anche alcune piacevoli storie anche di stranieri che hanno risistemato vecchie case gigantesche in campagna, le hanno trasformate in riocano anche per viverci solo loro. Però spesso anche camminando per Tokyo basta girare un angolo e ti trovi o in una regione pseudo abbandonata o in case in cui nessuno più vive. Magari il proprietario è morto non ci sono eredi e così via, ma è relativamente comune. Leggeri Fukushima, poi dopo il terremoto e l'incidente nucleare è ancora peggio. Però non è una cosa inusitata come ho detto nella capitale stessa. Per la fatta vedere il castello di Meiji e qualche cibari e via dicendo, questo è un filo di campagna, una risaia giapponese a chiotto, tra l'altro. ritorno un attimo velocemente per far vedere quello che è il giro classico che secondo me il turista dovrebbe fare. E cioè vedersi Kyoto, Nara che è qua in questa zona che comunque ci sono dei tempi belli e poi è molto il punto il Todaiji Kyoto che è pieno di tempi non bisogna andare a vedere tutti i tempi se no è come a Roma andare a vedere le chiese. Quindi è una grande perdita di tempo. Se si ha tempo si può andare a Kobe che io l'ho trovata bella anche se praticamente totalmente costruita. Beh, lì il terremoto ha fatto bei danni. l'altra cosa Osaka la eviterei perché è uguale a Tokyo alla fine c'è qualche cosa di particolare ma non so se possa valere la pena di rimanerci più di qualche giorno. Beh, anche Osaka come Tokyo sono state bombardate pesantemente nella seconda guerra mondiale per cui è rimasto poco o poco niente. Tokyo essendo molto grande poi appunto molte zone si sono salvate ma non in centro quindi sì, la città in sé il castello è bello anche quello ricostruito ma non c'è molto io ho puntato adesso qui su Kanazawa che può essere una valida alternativa se si ha qualche giorno in più è un po' fuori rotta però adesso come potete vedere da Kyoto ci si arriva e da qui hanno fatto lo Shinkansen che arriva direttamente a Tokyo quindi in tre ore mi sembra tre ore arrivi a Tokyo da Kanazawa quindi potrebbe essere fattibile. Sì, ecco, la cosa che forse dovremmo dire è che ma insomma sono cose note però se uno va in Giappone dovrebbe comprare il Japan Rail Pass in maniera poi da attutire l'impatto del costo dei biglietti perché i treni sono fantastici veloci soprattutto ce n'è uno ogni 10-15 minuti quella è la peculiarità non è tanto la velocità perché anche i nostri frecciarossa in assenza di danni sono veloci e anche la precisione e soprattutto è la frequenza cioè che ogni 10 minuti patta un treno da Tokyo a Osaka quindi è come se noi avessimo frecciarossa realmente ogni 10 minuti sì, lì bisogna guardare il Japan Rail Pass perché c'è quello per tutto il Giappone se no se si vuole fare un giro più corto nel senso che si sta 10 giorni e via dicendo e si riesce a prendere da un aeroporto di Osaka l'arrivo o la partenza e viceversa l'arrivo o la partenza da Tokyo quindi si splittano i due aeroporti ci sono anche dei Japan Rail Pass che ti permettono di fare questa tratta in maniera molto più conveniente che un Japan Rail Pass per tutto il Giappone sì, anche tratte ridotte oramai è molto differenziale però assolutamente conveniente perché ti permette di muoverti sia sulle linee locali che su quelle veloci quindi infatti è così e vicino a Tokyo io posso consigliare di andare a vedere in giornata allora intanto Yokohama che secondo me è una interessante Chinatown è comunque un'area portuale molto carina non so se te ci sei stato sì, sì, sì è molto bella e poi l'ultima cosa un po' lontano ma comunque bella è Nicco che è qua prima avete visto delle foto con delle montagne erano quelle di Nicco e anche qui ci sono dei scusatemi ecco qua infatti dicevo dove erano i santuari sono qui e c'è anche la qua la oddio ce la faccio la casa estiva dell'imperatore quindi anche qui puoi andare lì gli citofonate se sono là devi entrare e poi gli fai offrire un tè no ma parliamo adesso visto che ormai stiamo già parlando da quasi una ventina di minuti di quelle cose particolari che tu mi hai segnalato da che cosa vuoi iniziare no sicuramente allora dal museo delle fogne direi al museo delle fogne il museo delle fogne è bellissimo è interessantissimo è chiaro che è un museo molto tecnico però è veramente interessante perché in realtà ce ne sono due ce ne questo e anche un altro ma in pratica fa vedere come è messa in opera tutta l'infrastruttura delle appunto delle fogne dell'acqua e anche quelle dell'elettricità e così via quella delle fogne è quella più complicata da restaurare in caso di da ripristinare in caso di terremoto cioè mentre l'elettricità essendo tutte le linee aeree bruttissime esterne è relativamente semplice il gas pure ci sono dei meccanismi che chiudono naturalmente il gas in caso di terremoto proprio per evitare perdite e quindi gli incendi che poi seguivano sempre i grandi terremoti le fogne essendo grandi collettori d'acqua messi più in basso e così via sono oggetti più complessi e appunto quindi comunque molto interessante uno di questi due musei è possibile anche entrare nella fogna veramente cioè per quanto assurdo possa sembrare si scende due o tre livelli sotto il suolo e c'è praticamente ovviamente scendendo ci sono vari esempi tombini le strutture appunto l'infrastruttura e così via ma c'è una specie di boccaporto tipo quelli da sottomarino da nave che ti mette su uno dei grossi collettori e in realtà ovviamente non è che sia profumato però non è neanche una puzza terribile perché essendo molto diluito nell'acqua è interessante perché un collettore sarà alto forse anche più di 4 metri come diametro tutti affacci diciamo a metà è chiaro che quando poi c'è molta acqua e molta pioggia perché quelle ovviamente non sono acque fognari ma anche acque di scarico delle acque piogane e così via e quindi poi quando c'è un livello dell'acqua molto alto devono chiudere e sigillare altrimenti si allagherebbe il museo però appunto è chiaro che è particolare per gusti particolari insomma non è da prima visitata non è da prima visitata ci sono altre cose però è estremamente interessante sì sì no questo lo segno metto il link in descrizione così tutti i link di queste cose li potete trovare facilmente e via dicendo l'altra cosa era il collettore di scarico sì sempre per restare in acque sotterranea e così è un fetish particolare questi in realtà non ci sono ancora riusciti a stare a non andare perché richiede la pronunzione prima però appunto non so se puoi ingrandire la foto che sta a destra essenzialmente è una gigantesca cattedrale sotterranea che è un un collettore di acque piovani quindi c'è questo gigantesco invaso sotterraneo per appunto evitare che nel caso di forti piogge che appunto è uno dei disastri naturali che spesso si abbatte sul Giappone recentemente a sud per il Giappone sono stati parecchi morti dovute appunto a queste grosse precipitazioni viene immagazzinata in questo gigantesco collettore quindi evita poi di distruggere la città o comunque anche inondare il suolo da questo punto di vista in quanto a preparazione per le infrastrutture e per i disastri gli giapponesi sono impeccabili appunto questo si può visitare però solo nei giorni feriali solo in una certa serie di non so se si vedono vedete lì c'è una persona per dare un'idea della scala sono belli alti devono essere sui 20-30 metri mi sembra ma deve essere impressionante però appunto bisogna prenotare nei giorni feriali quindi poi poi come dicevi appunto anche in certi momenti dell'anno perché altrimenti sono pieni d'acqua ma questo è proprio per le emergenze quindi è più raro che si riempia d'acqua però si se poi piove oppure c'è un rischio lontanissimo gli debba servire è chiaro che ti dicono bello mio no ecco l'altra cosa che mi avevi segnalato era il museo della scienza marittima si sempre a tema navale questo è Odaiba quest'isola Odaiba era una serie di isole o sono una serie di isole poste nella baglia di Tokyo messe lì a difesa naturali poi però sono state fortificate ingrandite eccetera eccetera questa qua esatto adesso diventano un enorme complesso che un po' insomma allarga la superficie vivibile di Tokyo ci sono una serie vale la pena andare Odaiba comunque perché è pieno di parchi di divertimento eccetera eccetera c'è anche il museo della Toyota c'è il museo della Toyota delle macchine dell'NHK eccetera eccetera quello delle navi vabbè di nuovo a me sono argomenti che interessano piacciono quindi c'è questo museo fatto a forma di nave in cui c'è anche una nave che è una nave questa qui è una nave oceanografica il museo è in basso a sinistra nella foto e appunto in realtà è sul museo della scienza marittima ma comunque vale la pena di essere visitato poi tra l'altro Odaiba c'è questa caratteristica che essendo cioè è aperta fino a notte tarda non il museo ma tutta l'area quindi se uno non si stanca è un terminator dopo essersi fatti la parte classica i musei si prende questa Yurika Mom che è questa monorotaia che ti porta Odaiba e puoi stare lì ancora più a lungo quindi da quel punto di vista permette di ottimizzare di allungare i tempi e poi uno l'ha vista su Tokyo vista dalla Bagna ci sono le Rainbow Bridge prima l'avete vista nelle foto che ho fatto scorrere e via dicendo ci sono tante aree di intrattenimento nella zona quindi da vedere e l'ultima cosa era questo qui mi sembra che però me lo spieghi tu perché io non il Dago Fukuryumaru questo è sempre a tema marittimo questa purtroppo è una nave una barca da pesca cioè Daigo sarebbe il quinto dragone fortunato Maru che è l'ideogramma quello più a destra quello lì esatto essenzialmente Maru vuol dire tondo bravo bravo e vuol dire tondo ma essenzialmente è il denominatore delle navi infatti come diciamo sempre quando capita questo argomento la famosa Kobayashi Maru di Star Trek 2 è semplicemente la nave che si chiama Kobayashi e questo qua appunto è il dragone fortunato numero 5 che però tanto fortunato purtroppo non fu perché appunto fu la barca ma soprattutto il suo equipaggio fu esposto all'esplosione di Caster Bravo Bravo sta per la seconda esplosione termonucleare quindi bombe a fusione nucleare quindi multistadio qui i fisici come dico sempre topparono i conti alla grande invece di fare 5 megatoni trascurarono una catena del litio che rese l'esplosione molto più potente di 15 megatoni e quindi 15 megatoni è mille volte Hiroshi o Nagasaki più o meno quindi per dare un'idea l'avevamo fatto nella live sulle bombe nucleari se l'andate a cercare magari metto il link quindi eh sì nella live sulle bombe nucleari dà anche un po' l'idea di queste dimensioni perché appunto essendo bombe a fusione nucleare sono cose immense e poi tra l'altro anche in parte abbandonate perché poco pratica nel contesto di guerra nucleare ma appunto il problema è che questo gigantesco fallout causò la morte di questi non so se di tutti ma di molti pescatori di questa nave era il 54 in qualche maniera fu anche in qualche maniera padre di Godzilla nel senso che di nuovo il fatto che il Giappone fosse non era in acqua internazionale ma comunque una barca che un equipaggio giapponese fosse di nuovo soggetta a danni nucleari insomma ha lasciato il segno e quindi anche questa è stata portata in un in un museo e si può e si può visitare anche lì nel caso del museo legato anche all'esposizione della radiazione c'è da dire che in questo caso l'equipaggio subito cioè non fu trattato come appestati un po' come quelli colpiti dai Roshimi e Nagasaki perché dopo il 45 i Hibaksha cioè quelli colpiti da appunto da bombe nucleari si ritenerano che fossero contagiosi quindi venivano un attimo tenuti da parte si anche senza un attimo e poi la cosa che cambiò quando ci fu questa ragazza Sadako che morì negli anni 50-60 sta nel museo di Hiroshima che in qualche maniera fece prendere coscienza al Giappone sia del fatto che questi erano vittime non assolutamente era una follia considerarli colpevoli di qualcosa ma in più del dramma degli effetti a lungo termine del bombardamento nucleare perché appunto forse un 50% no ma un 30-40% di morti non nell'immediato ma negli anni successivi ci sono stati quindi questo è un bombardamento diverso da quello di Tokyo perché anche Tokyo riuscirono a fare gli americani in poche ore con molti più aerei 150-100 mila morti infatti ci sono vari musei dedicati a questo però era un bombardamento convenzionale se sopravvivevi più o meno a quello all'inferno di fuoco perché poi erano bombe incendiari o meglio erano tondini di ferro impregnati di napalm si vedono bene nella tomba delle lucciole altro filmetto tanto allegro però se sopravvivevi sopravvivevi invece con la bomba nucleare non sapevi mai questa spada di namocle se come nel caso di questa povera ragazza sfortunata poi riveniva a manifestare più tardi no volevo giusto che hai parlato tutto di cose marittime segnalo anche questo museo veramente piccolino è il museo della guardia costera di Yokohama dove è esposta una nave peschereccio nordcoreano con cui c'è stato un battibecco nelle acque giapponesi nel 2005 comunque anche qui c'è il video dove sono andato in Giappone con un mio amico che lo faccio vedere dentro quindi magari recuperatelo e se passate per Yokohama è una delle zone sicuramente da vedere e bisogna vedere anche questo però per tutti mi spieghiamo che non è un peschereccio c'era una nave spia coreana mascherata da peschereccio sì 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 sono dimenticato una nave spia nordcoreana camuffata da peschereccio io direi che siamo arrivati addirittura a mezz'ora questa volta abbiamo stra esagerato vedremo di fare altre puntate tra un po' intanto io ti ringrazio Marco grazie a te grazie a voi ci vediamo alla prossima ciao